Di nuovo in questo paese, che è mio e al quale tengo, non è una novità. L'ho fatto sapere, amichei, l'importante è la pace, ora. Bravo, Serghei, ma non farti illusione, c'è poco di buono in giro. Meglio pulire in casa, aprire gli armadi e vedere cosa è rimasto. Parole, azioni, la terra non è che un palcoscenico in un teatro troppo vasto, qualcuno ha già segnato le parti. Come in questa serata, alcuni hanno il coraggio di recitarle, altri, quello di rimanere, comparse. Ma attenzione, abito il servettore morto, sicuramente. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. 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 a tutti.